Come cambia il mondo delle banche? È un periodo difficile anche a livello bancario in questo convegno. Oggi a Montesilvano si parla di questo, si parla anche del Bailin e di come questo mondo si trasforma. Il mondo bancario si sta trasformando perché sta cambiando anche la società, cambiano le esigenze dei clienti, l'utilizzo della tecnologia cambia la vita di tutti i giorni, quindi anche il sistema bancario si adegua come è successo per l'industria, per il mondo dei servizi e ogni cambiamento ha dei problemi. Nel mondo bancario l'elemento fondamentale è la fiducia, il Bailin è un elemento che ha cambiato il rapporto tra cliente e banca, il rapporto di fiducia deve essere migliorato sicuramente, è compito di tutti coloro che lavorano nel mondo delle banche, dipendenti, manager, gli stessi clienti, lavorare affinché questo elemento di fiducia sia fondamentale e poi sicuramente cambieranno i modi di operare, cambierà il modo di relazionarsi con la banca, più banca online, forse meno filiali. Credo che bisogna ricostruire un rapporto e quindi l'educazione finanziaria di cui spesso si parla è un elemento importante affinché i clienti siano consapevoli e anche gli operatori bancari sappiano che non hanno degli sproveduti ma delle persone che effettivamente conoscono. Quindi chi più sa c'è minore possibilità che succedano ancora situazioni spiacevoli come il Bailin che ha portato a questi grossi problemi in Abruzzo ad esempio con Carichietti.